Un individuo è stato arrestato con l'accusa di aver deliberatamente cercato di uccidere i membri della sua famiglia mentre era alla guida di una Tesla facendo precipitare l'auto per circa 70 metri da una scogliera in California. Il lunedì 2 gennaio l'incidente si è verificato sulla pericolosa Devil Slide e ha coinvolto non solo l'uomo ma anche sua moglie e i loro due figli che erano a bordo dell'automobile. Il sospetto d'Armshead Potel, un medico di 41 anni residente a Pasadena, è stato incriminato con l'accusa di tentato omicidio e abuso su minori. Gli investigatori hanno interrogato testimoni e raccolto prove della scena che hanno portato a concludere che l'incidente sia stato un atto deliberato. Nonostante il veicolo si sia ribaltato più volte prima di fermarsi a pochi metri dall'oceano, Patel, sua moglie Nea e i loro figli, una bambina di 7 anni e un bambino di 4 anni, sono miracolosamente sopravvissuti. Al momento Patel sta affrontando seri rischi legali e potrebbe essere condannato a una pena detentiva di almeno 15 anni a seconda dell'evolversi del processo. Grazie.